canale di luca a tutti i ragazzi bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui al farco giochi giocheremo a crash royale e come vedete sono giornati in arena 3 non era un bug non so si era un bug e oggi siamo in compagnia di cricri gtv iscrivetevi al suo canale e e e e e e e e ora ho appena ho aperto un baule e ho vinto una nuova carta che sarebbe questa la capanna del barbari si la capanna dei barbari e ho già visto il negozio non c'è niente di bello ora giocheremo con cricri gtv vero che si uccidò le palle cricri va bene cricri gtv e ragazzi ma basta questo che urla suo fratello madonna che nervoso vi dico se nella vita conoscerete cricri gtv e farete lo in youtube e non fate mai un video con lui perchè proprio ma perchè no se fai venire il nervoso il video ha beneficiato mi stai già facendo no voglio morire però no ma muori tu ma muori tu ma muori tu ma ci faccio una bomba cricri gtv si si luca è stato morto da cricri gtv si è stato morto ma l'italiano dove l'ha imparato è stato ucciso guarda la c'è già la tomba pronta due tombe perchè tu da fantasma uccidi me ma io prima uccido te e guardate ragazzi secondo me secondo 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 voi che arriverà prima alla torre della vagina io ma sai almeno cos'è la vagina io sono già arrivato dai ragazzi devo farcela ho chiesto di farcela nooo cricri gtv sta' giocciata in sperano perchè lui è in arena 2 poverino o sto lì mi notti controllo io madoo sta arrivando d'unico da cammino zon b nicolas nicolas to non zon bar mi in cervella Scemo, scemo, faccia di James Lemon. Dai, dai. No, no, no. Sì. No. Ciao Nicola, saluta. Ciao, coglioni. No, no, vabbè Nicola. Ok, ora sono molto tranquillo e lui si è un po' arrabbiato piccolo. Guarda quanto sono. Oggi dobbiamo chiudere il video. Ma cosa hai appena iniziato? Allora è vero. Allora sì. Ok, adesso c'è anche Nicola. Oh, Nicola. Ma non basta. Ma Nicola! Dai dove ne impari? Lo fratello non ti educa bene, ok? Ragazzi, questa sarà l'ultima partita... Basta! Questa sarà... Basta! Questa sarà... Basta! Vabbè, non ascolta tu. Questa sarà... Sì, sì. Questa sarà l'ultima partita di questo video. Raga, mi sto veramente incazzando perché... Qua mette di tutto e non mi fa mettere niente a me. Esci! Esci lì! È partorito! Vabbè, vabbè, facciamo pesabù! E si fa una palla! Ma basta, questo... Questo si arrampica sullo scivolo che siamo al parco e mi fa il mio culo palla. Il mio culo palla. Il tuo culo fa schifo. Non è vero? Sì, il tuo culo... Dove sta anche le pulsante oggi? Sì, raga, oggi sono... Mi sono cadute i pantaloni... Quindi... Che cos'è? Ma basta, mico! Che cos'è? Che cos'è? Mamma! Ciao, bello! Basta leggere queste cose, madonna! C'è una cosa qua che l'ha scritta Gigi D'Alessio! G.2 Fai tanto... L'uomo vissuto e ti comporti come loro! Ti comporti come loro! Ti comporti come loro! Oh, no! Loro! Coro! Che, raga? Coro! 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 Loro! Coro! Sono scritto loro! Ragazzi, sono incazzatoso, incazzatoso. Gigi D'Alessio, madonna! Gigi D'Alessio, punto! Ciao! Il pizzellino, poi! Il pizzellino, poi! Il pizzellino, schiampo! Ciao, devo scappare da Criora! Ragazzi, devo fare due cose ora! Devo scappare da Cri! E intanto devo mettere le carte! Ok, Cri-Cri ha smesso di inseguirmi! Ma ora c'è Nicolas! Ok, anche Nicolas! Mi sa che Cri-Cri vuole ingannarmi, quindi non sono tanto sicuro di avvicinare! Lo sapevo! Ma tu sei un coglione! Ma tu sei un coglione! Eh? Io questa è la mia, la mia madre! Non è di mia madre, è mia! No! È stato già rotto, pure così! Dai, è quello che stiu... Dai, basta! Fai il video educatamente! Fai il video educatamente! Ma tu sei un coglione! Perché? Perché? Hai detto, scappare da qui! No! Perché tu volevi picchiarmi! Perché ti ho toccato lì! Ok, tocca, tocca! Oh, io non te l'ho scherzato! Ok, raga! Raga! Non è ok! Non è ok! No! Vi prego! Raga, vi prego! La devo pareggiare! Dunque, 4... 2... 1... 3... Sì, l'ho pareggiata, raga! Piut! Mi aveva messo di tutto e di più! Ok, schifo! Ok! Ti so guardare! Ok ragazzi, per oggi il video si può concludere qua! E iscrivetevi al mio canale! Ok, io faccio tutto! Iscrivetevi al mio canale! E in sotto... E... E... A quello di... E... A quello di... E... Di KrikriGTV! E... Mettete un pollice in su! Al mio! E iscrivete il nostro canale! Sì, l'ho già detto! E iscrivetevi anche! Al canale di Nikolas! Nikotois! Sì, Nikitois! Eh, va bene! Nikitois! 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 Eh, una cosa! Cliccate la campanella rossa! Sì, leccatela! Dai! Anche a me! Cliccate la campanella! E... A domani! Anzi, a stasera! Anzi, a domani! Non lo so! Clicca! Grazie a tutti.